Il tempo del verbo. Il movimento dà la misura del tempo. Con il movimento della Terra che gira su se stessa, misuriamo il tempo che passa. Ogni giro corrisponde ad un giorno. Anche con il movimento della Terra intorno al Sole, misuriamo il tempo che passa. Ogni giro completo corrisponde ad un anno. L'orologio, con il suo movimento regolare, segna le ore, i minuti e i secondi. Quando il movimento è regolare e costante, possiamo misurare il tempo che passa. I verbi indicano azioni, ma delle azioni espresse dal verbo possiamo misurare solo la loro durata. Chiameremo questo tempo il tempo delle azioni o il tempo del verbo. È il tempo in cui si compie l'azione. Prima e dopo l'azione non esiste. Quindi il tempo dell'azione è quello del suo presente, cioè nel momento in cui avviene. Luca beve un bicchiere d'acqua. L'azione bere esiste solo nel momento in cui si agisce, cioè nel presente. Prima l'azione non esisteva. Quanto tempo impiega Luca per bere un bicchiere d'acqua? Dipende. Può impiegare un istante se beve tutto d'un fiato. Oppure l'azione può durare molto di più se beve a piccoli sorsi. In entrambi i casi il tempo impiegato è il presente dell'azione bere. Il tempo impiegato per compiere l'azione breve o lunga che sia è sempre il presente del verbo. Quando finisce il presente? Il tempo presente finisce quando termina l'azione. Appena è finita, l'azione non esiste più. È passata via. Quello che resta sono gli elementi indicati dal nome. Resta Luca e resta il bicchiere. Ma l'azione, il verbo, è sparito. Maria gioca. Quanto dura l'azione di Maria? Maria può giocare anche per un'ora. In questo caso il presente dell'azione giocare ha la durata di un'ora. Nell'istante in cui Maria smette di giocare l'azione sparisce e finisce il tempo presente. Cosa c'è quando finisce il presente? Quando Luca ha finito di bere dice Ho bevuto. Il presente è appena finito. È passato. Ho bevuto indica la fine dell'azione bere. Quando Maria dice Ho giocato l'azione giocare non esiste più. Si è conclusa. Fa parte del passato. Ma di un passato vicino, cioè prossimo, al presente. Si chiama proprio passato prossimo. Il passato prossimo è il tempo che indica un'azione appena terminata, finita da poco. Cosa c'è prima che inizi l'azione al tempo presente? C'è il pensiero di un'azione che sto per compiere. Maria pensa. Giocherò. Maria sta pensando che tra un po' inizierà a giocare. Non sta ancora giocando. Non ha ancora iniziato l'azione giocare. Il tempo di questo verbo precede il presente. Si chiama futuro semplice. Marco mangerà. L'azione mangiare non è ancora iniziata. Tempo futuro semplice. Marco mangia. L'azione mangiare è iniziata. Tempo presente. Marco ha mangiato. L'azione mangiare è appena finita. Tempo passato prossimo. Leggiamo insieme. Mangerò. Sto pensando di mangiare. Futuro semplice. Mangio. Sto mangiando. Presente. Ho mangiato. L'azione si è appena conclusa. Passato prossimo. Correrai. Stai pensando di correre. Futuro semplice. Corri. Stai correndo. Presente. Hai corso. L'azione non esiste più. Passato prossimo. Dormirà. Futuro semplice. Dorme. Presente. Ha dormito. Passato prossimo. Balleremo. L'azione non è ancora iniziata. Futuro semplice. Balliamo. Stiamo ballando. Presente. Abbiamo ballato. L'azione è appena terminata. Passato prossimo. Canterete. Futuro semplice. Cantate. Presente. Avete cantato. Passato prossimo. Cucineranno. Stanno pensando di cucinare. Futuro semplice. Cucinano. Stanno cucinando. Presente. Hanno cucinato. L'azione si è appena conclusa. Non esiste più. Passato prossimo. Passato prossimo.